avere un secondo fotografo è particolarmente importante soprattutto per due ragioni la prima di sicurezza qualunque cosa possa accadere al primo fotografo il secondo fotografo è pronto a coprire tutto l'evento la seconda ragione è la varietà due fotografi possono coprire meglio l'evento avere più immagini e per voi una maggiore scelta di quelle che sono le fotografie che potrete inserire nel vostro album di nozze